ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video oggi è l'ultimo episodio di granny ma non ci fermeremo qua ne faremo faremo il 2 faremo il 3 non ci fermeremo di certo qua faremo pure dopo di questo video arriverà il 2 l'ultimo video ok l'abbiamo iniziato l'abbiamo iniziato senza granny e lo finiamo senza granny questo qua è il quarto video di granny giusto il quarto è l'ultimo video che faccio su granny 1 non capite male ragazzi l'ultimo video su granny 1 poi faremo granny 2 con molti più video tipo 10 no niente no troppo 10 11 video per granny 2 per granny 1 questo qua facciamo solo 4 video ok ragazzi speriamo che questa volta ce la facciamo ma nel dubito visto che negli ultimi 3 video non ce l'abbiamo fatta la c'è la chiave quella la è già un po diciamo buono oh la c'è quella la è il codice e qua cosa c'è la chiave quella del il motore benissimo ragazzi proveremo a scappare con la macchina magari questa volta avremo un po di fortuna e ce la facciamo dobbiamo ricordarci dovrà la macchina che è lì sotto benissimo ragazzi siamo qua abbiamo diamo qua benissimo ragazzi ci manca questa qua questa qua è la batteria e poi ci serve la chiave della macchina e la benzina e la chiave quella della porta quella la vedete quel garage con quel cancello dobbiamo trovare la chiave blu adesso noi andiamo su e cercheremo la chiave quella la perché la chiave della e ci serve anche la chiave della balestra perché la chiave blu potrebbe essere nel 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 condotto che si apre col cacciavite la batteria non male dai ragazzi magari questa qua è l'ultimo video che scappiamo speriamo allora ragazzi scendiamo al piano di sotto scendiamo 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 e già è un buon inizio ragazzi adesso mettiamo la batteria qua adesso ci serve questa qua è la chiave quella la allora ragazzi saliamo 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 giriamo di qua ok ragazzi saliamo di qua andiamo qua andiamo verso di qua verso di qua di qua di qua speriamo di trovarla più presto qua non c'è niente speriamo di trovarla qua vediamo cosa c'è qua vediamo cosa c'è qua questa non benissimo ragazzi benissimo ragazzi incredibile abbiamo trovato grande ragazzi manca solo la chiave della macchina e la chiave inglese giusto ragazzi vero la chiave inglese adesso la cercheremo speriamo di trovarla più presto qua dentro dentro la chiave dobbiamo cercare pure la dentro la cassaforte volevo dire andiamo di qua andiamo di qua di qua di qua ok ragazzi manca la chiave inglese è qua e poi dobbiamo trovare pure la chiave della macchina per aprire il cofano e metterla benzina ragazzi cioè è la volta buona che scappiamo l'ultimo video di granny 1 che scappiamo io non penso però io ci spero che abbiamo visto gli ultimi video cosa è successo fuori casa mia ci sono tutti i rumori quando registro io ci sono tutti i rumori del mondo adesso portano pure le campane ne sono sicuro vabbè ragazzi dai noi continuiamo le mo giustamente ci voleva anche la moto no quando registro i video io ci serve sempre la moto no allora noi andiamo di qua corriamo andiamo qua mettiamo un secondo qua ragazzi cosa c'è la chiave della playhouse la chiave della playhouse diciamo che è un buon inizio allora andiamo fuori vediamo se troviamo qualcosa qua e la playhouse qua non c'è niente c'è il mielone prima giusto mi sto confondendo qua non c'è niente penso è improbabile che lì c'è qualcosa dobbiamo trovare la chiave io voglio trovare la chiave per scappare dobbiamo trovare quella chiave della balestra vero allora intanto facciamo così ragazzi sono sdraiato perché stanco a stare seduto quindi ragazzi sono sdraiato come potete vedere andiamo qua uno di qua uno di qua ah ragazzi ah ragazzi ci stiamo ascoltando una cosa importantissima occhio non cadere la ma noi abbiamo visto nel bagno no no ragazzi non c'è niente non c'è niente non c'è niente nel bagno peccato allora ragazzi dobbiamo fare così prendiamo la canna non c'è niente mi riazzo perché ragazzi saliamo 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 ragazzi ragazzi non ci posso credere questa sì che è fortuna abbiamo trovato la chiave inglese bene manca una cosa importantissima ragazzi dobbiamo trovare dobbiamo trovare ehm solo la chiave e la chiave blu ragazzi non ci posso credere ma dove sarà la chiave blu adesso dentro qua no dove sarà ma non lo so io dove sarà la chiave blu no la chiave blu non lo so ma la chiave della macchina dove sarà andiamo qua qua però abbiamo più vantaggio rispetto alle altre volte giusto ragazzi cioè guardate ragazzi adesso vi faccio vedere cioè abbiamo tutto davanti è solo la sportuna di non trovare la chiave questa qua che apre qua e la chiave della macchina proprio non so dov'è dove può essere una chiave di una macchina dove può essere penso nella cassaforte guardate ragazzi qua qua nella cassaforte qua qua dentro è solo che manca pure la chiave della cassaforte dove sarà se noi potremmo fare cadere quella la magari la chiave quella la sarà la lì dentro chi lo sa non posso saperlo io ragazzi andiamo di qua speriamo di trovare qualcosa scendiamo ma qua ancora è chiuso ma non abbiamo visto prima boh ragazzi non so andiamo avanti 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 che ragazzi andiamo verso di qua andiamo di qua ragazzi io concludo il video qua anche perché è a 9 minuti quasi a 10 e ma grazie per la visione di questi video di granny 1 pure se tutto il tempo tutto il tempo non abbiamo fatto niente io vi saluto noi ci vediamo con un prossimo video su granny 2 speriamo che su granny 2 avremo un po' di fortuna perché ragazzi ho fatto 3 video con questo 4 4 video senza riuscire a scappare ragazzi niente ragazzi io vi saluto qua con questa inquadratura così noi ci vediamo con un prossimo video su granny 2 noi ci vediamo in un video di granny 2 e ciao ragazzi mettete like se questa serie vi è piaciuta anche se non siamo riusciti a fare niente però sempre è bella è stata bella questa serie ciao a tutti ragazzi se arriviamo a trend a vendi e visualizzazioni porterò anche te twins ciao ragazzi